Una operazione congiunta che ha impiegato oltre 100 uomini fra polizia municipale, carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Alle prime luci dell'alba ha portato al sequestro di una intera struttura abusiva di oltre 55 mila metri quadrati in via soffritto. Si tratta del complesso Casalda Padeira, un centro turistico ricettivo con 30 appartamenti, bar, ristorante, residence, sale per cerimonie, piscine e panificio per una prima stima orientativa che va ben oltre i 25 milioni di euro. L'ordine di sequestro è giunto dopo due anni di indagini della sezione di polizia giudiziaria aliquota della polizia municipale del comune di Napoli presso la procura della Repubblica, coordinata dal tenente Gabriele Salomone. Un tempo necessario per collegare ogni elemento delle indagini che hanno una storia che parte già dal 1984 ma che finora non erano riusciti a dare altro che parziali risultati. Le indagini concluse ora invece hanno permesso di giungere ad un provvedimento afflittivo di portata così grande a carico delle proprietà riconducibili alla persona di Crescenzo Polverino. Stamattina con l'intervento della procura è stato operato questo sequestro preventivo di un'intera area, gran parte destinata ad attività turistico, ricettive, totalmente e completamente abusive. Stamattina con le indagini svolte dalla polizia municipale. Abbiamo completato un percorso di ripristino della legalità in questo sito dove sostanzialmente interi manufatti compreso un'attività imprenditoriale di pregio destinata a panificio è stata realizzata in maniera del tutto abusiva, abusiva sotto il profilo urbanistico, abusiva sotto il profilo della destinazione, delle registrazioni catastali, un'attività perpetrata da svariati anni, 84 ad oggi. Oltre alla lottizzazione abusiva sono emersi anche problemi ambientali per sversamento illecito di rifiuti e materiali di risulta e pare che la zona fosse anche interessata alla prossima costruzione di una strada di collegamento fino a pianura. Il giudice ha disposto anche l'immediata cessazione di tutte le attività commerciali con l'obiettivo di attivare tutte le azioni necessarie ad ottenere la confisca e la futura acquisizione al patrimonio del comune dell'intero complesso. L'azione giudiziaria di stamattina condotta dal procuratore aggiunto Fraiasso e dal titolare del procedimento del dottor Giuliano e sostanzialmente ha avuto il pregio di inquadrare il sito nella sua complessità, quindi senza lasciare spazi a singoli interventi su singole particelle come del resto è stato anche fatto nel passato. Invece oggi è proprio questo il pregio dell'azione giudiziaria, quello di inquadrare il sito nella sua complessità territoriale.